Ciao ragazzi e benvenuti nel sesto episodio. In questo video vediamo gli operatori in C++. Gli operatori sono usati per eseguire determinate operazioni sulle variabili e anche sui valori. Negli scorsi video abbiamo già visto alcuni operatori come l'operatore più che banalmente ci permette di sommare due numeri o comunque due variabili e questo operatore può essere usato sia per sommare valori espliciti quindi come dei numeri ad esempio 5 più 3 ma anche per sommare il valore di un numero e una variabile o una variabile ed un'altra variabile. Ma facciamo un esempio per capire meglio. Vado a dichiarare una prima variabile somma 1 quindi int somma 1 uguale a 100 più 50. Questa è un'operazione esplicita infatti abbiamo esplicitamente scritto i nostri numeri. Il primo è 100 mentre il secondo 50. Vado a creare una seconda variabile somma 2 sempre integer e questa volta vado a sommare una variabile e un valore esplicito ad esempio 250 più e vado ad aggiungere il valore della variabile somma 1. Infine vado a dichiarare una terza variabile sempre integer e questa volta sommiamo somma 1 più somma 2. Quindi nel primo caso abbiamo sommato dei valori espliciti quindi dei numeri in chiaro. Nel secondo caso abbiamo invece sommato un numero esplicito 250 e una variabile somma 1. Mentre nel terzo ed ultimo caso abbiamo sommato due variabili che sono somma 1 e somma 2. Ovviamente esiste anche l'operatore meno per sottrarre, l'operatore asterisco per moltiplicare i due valori quindi in questo caso farebbe una moltiplicazione tra somma 1 e somma 2 e infine c'è la divisione che si scrive con lo slash. Quindi in questo caso andrà a fare somma 1 diviso somma 2. C'è però da dire che in questo caso se noi andiamo a fare una divisione il risultato potrebbe avere la virgola e c++ ci andrà a togliere questa virgola e a lasciare solo il numero intero. Se invece volessimo tenere la virgola dovremmo utilizzare una variabile di tipo float ovvero una variabile che accetta numeri con la virgola. Ma ritorniamo agli operatori. Ne esistono quattro tipi. Quelli aritmetici quindi quelli che abbiamo appena visto, quelli di assegnazione, quelli di comparazione e infine quelli logici. Appunto gli operatori più, slash, meno e asterisco sono degli operatori aritmetici. Adesso a schermo dovreste vedere una lista con gli operatori aritmetici e la loro funzione e come notate questi operatori ci permettono di fare operazioni matematiche in modo semplice. Vediamo poi gli operatori di assegnazione. Ne abbiamo già visto uno che è uguale e ci permette di assegnare un valore ad una variabile. Ad esempio abbiamo visto string nome uguale quindi assegniamo un valore alla variabile nome. Mettiamo ad esempio pippo. Sono anche importanti da ricordare altri due operatori in particolare che sono il più uguale e il meno uguale. Vediamo adesso cosa fanno. Andiamo per esempio a dichiarare una variabile x e la impostiamo a 10. Sotto andiamo poi a scrivere x più uguale a 5. Ciò che farà questo operatore sarà di aggiungere 5 alla nostra variabile x. Quindi la nostra variabile x varrà 10 più 5 ossia 15. Vado poi a mandare a schermo il valore di x con un cout. Poi salvo il codice, lo compilo e quando avviamo il programma ecco qua che ci compare 15 a schermo. Ho menzionato anche l'operatore meno uguale. Quindi stavolta mettiamo x meno uguale a 5 e ciò che fa sarà sottrarre 5 al valore di x. Quindi ricompiliamo il codice, avviamo il programma ed ecco qua che questa volta ci compare 5 appunto perché ad x è stato sottratto 5. Passiamo agli operatori di comparazione che vengono usati per comparare due valori e ritornano un valore true o false a seconda della comparazione. Come prima qua state vedendo una tabella con gli operatori di comparazione e a cosa servono. Facciamo un esempio. Dichiariamo due variabili, la prima int x uguale a 5 mentre la seconda int y uguale a 3. Andiamo poi a mandare a schermo una comparazione tra questi due valori ossia cout aperte parentesi x maggiore di y. Salviamo il codice e compiliamolo e avviamo il programma. Come vedete ci viene scritto 1. 1 indica true quindi vuol dire che questa condizione qua che abbiamo scritto tra parentesi è risultata vera. Infatti x è maggiore di y siccome 5 è maggiore di 3. Se noi mettiamo minore, compiliamo il codice e avviamo il programma, ecco qua che ci viene scritto 0 che appunto indica false. Infine esistono gli operatori logici che usiamo per determinare la logica tra due variabili o due valori. Come vedete nella tabella ci sono tre operatori logici ed inoltre viene specificata la loro funzione. Ma tranquilli, se non state capendo bene questo argomento, man mano che andiamo avanti nei video capirete meglio e sicuramente facendo pratica memorizzerete al meglio questi concetti. Beh, come al solito per qualsiasi dubbi o domanda lasciate un commento al quale cercherò di rispondere. Mettete like se il video vi è piaciuto per supportarlo con l'algoritmo di youtube e noi ci vediamo nel prossimo video.